Turututututu Kirby turutututu Kirby turutututu Kirby turutututururu Kirby trattola Kirby for me un pallino così che in un valzo è già qui questo è Kirby Kirby è leggero può rimbalzare lui è un borbero superstellare Aspirando risucchiera romando quello che non va E allora salta sempre più in alto Kirby prende il volo e rimbalzo Kirby poi si lancia l'assalto e si trasforma Kirby Ha dei grandi nemici Kirby e dei piccoli amici Kirby due bambini felici con cui gioca pronto a volare ancora Sembra un aspiratore Kirby certamente migliore Kirby non commette un errore proprio in forma Kirby Salta sempre più in alto Kirby prende il volo e rimbalzo Kirby poi si lancia l'assalto Kirby Questo è Kirby turututututururu Kirby ratola Grazie per la visione!